Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù affinché vi doni la sua pace e la sua benedizione. Figlioli, vi invito tutti a vivere e testimoniare le grazie e i doni che avete ricevuto. Non temete, pregate affinché lo Spirito Santo vi dia la forza di essere testimoni gioiosi e uomini di pace e di speranza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Augurandovi ancora un Santo Natale, ringraziando la Regina della Pace per questo meraviglioso messaggio. Ci incamminiamo per una via di pace e di speranza. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.